ALT Ehi, aspettate un momento, ci sono anch'io. Ecco il vostro cibo, lo bagnate. Ma sono ancora qui. Devono imparare a... Adesso! Ma così non è giusto. Oh, piccolo mio, tu sei il tesorino della mamma, lo sai? È il cocco della mamma, è il cocco della mamma, è il cocco della mamma. Mamma, non devi farlo più. Non capisci che mi rendi ridicolo. Mi hai presso per uno spiumatello. Ormai il mio destino è segnato. E' arrivato il momento di abbandonare il nido. Basta e aspetta, sei ancora troppo giovane. Volare sarà un gioco da ragazzi. Chissà perché non ci ho provato prima. Mi manderò una cartolina da un posto pieno di sole. Miami o forse Cuba. Addios mamma. Deve stare più attento, piccolo amico. Da dove spunti fuori? Da nessun posto. Leggiami in parte. Da nessun posto? Nessun posto. Non ci sono mai stato. E come ti chiami? Buster. Buster, dimmi, non credi che la tua mamma, dovunque sia, si starà preoccupando per te? Sì. E adesso cosa hai intenzione di fare? Voglio scappare lontano e unirmi a un circo. Ah, il circo. Ora sì che parli giudiziosamente. Il circo è un concetto molto letterizzante. Ho conosciuto un tipo che si era udito a un circo. Di un po'. Tu sei un dinosauro, vero? Sì, amico mio. Filo alla punta dei denti. E allora perché sei qui che giochi a golf? Perché sono un dinosauro molto intelligente, Buster. Però non lo sono sempre stato. Ah, no? No, neanche per sogno. Vedi, al principio ero stupido e violento. Davvero? Intendiamoci, sono passate tantissime primavera e da allora. A quei tempi tutti avevano paura di me. Era una vera bestia. E avevo sempre fame. Una fame vera. 65 milioni di anni fa. Siamo arrivati alla pre-storia. Il maestoso c'è. È un'altra strana. Accomodatevi, prego. Eniva! Un potenziale cliente! Come va, signora? Perdono, signore. Oggi, sto giorno fortunato, attraverso una selezione casuale, sono stati strati la tua galassia, il suo pianista, la tua donna. E dunci si infunda o te! Eh, sì, proprio te sei stato presciuto per la nostra campagna promozionale gratuita! Voglio sottoporre alla tua attenzione un prodotto... No. Un prodotto rivoluzionario unico in tutto l'universo, il grano cerebrale! Un assaggio avrai un'idea, due, elaborerai un'ipotesi, diventerai intelligente! È disponibile in due fragranze, la vanigliona, la ciole! Scegli il gusto che ti piace di più e ti assicuro che non te ne vendirai! Buono, buono, buono! Ma sento a come usi quella boccaggia! Fall'educato che non sei altro! Ora basta, mi sono stancato, torno alla mia astronave! Pronto per la sua facciata? Pronto per la sua facciata? Che schifo! Trasformazione totale! E il tuo cuore batta solamente da capo... Che resistenza! Sembra incredibile! Ci sono volute 280 scatole di grano cerebrale per illuminare il corunto cervello! Vi accedo il pranzo! Ma non si fa! Pranzo? Cos'è il pranzo?